Ma perché lo vuoi cambiare? Oggi vedremo perché questa missione non può portare da nessuna parte. Allora, capiamo che quando scopriamo un viso che non combaccia con quel bel viso che ci è stato mostrato durante il Love Bombing, questo ci turba, ci mette in una condizione in cui non vogliamo accettare quella cosa che ci sta succedendo. Lo vogliamo percepire come un piccolo momento, una piccola cosa così che sta succedendo, perché probabilmente non è la giornata ideale. Probabilmente c'è qualcuno che gliela fate girare un attimo così, quindi aspettiamo un attimo che si calmino le acque e poi tutto ritornerà alla normale. Questa è una motivazione che può spingere tantissimi di noi a voler continuare a cercare di rimanere con i narcisisti per aiutarli, per aiutarli a capire chi sono loro in realtà, pensando che il loro vero io sia quella persona che ci hanno mostrato durante il Love Bombing. E quindi quando noi li vediamo cambiare così brutalmente, diventare verbalmente abusivi, ci diciamo no, 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 lui o lei non possono essere così. Questa non è la persona che ho conosciuto, questa è una persona che ha perso un attimo il controllo della situazione e quindi va rimessa in riga. E partendo con questo tipo di presupposti che in realtà ci stiamo mettendo in condizione di farci abusare a non finire. Qua sta lavorando la nostra empatia e non dico che sia una cosa brutta, per carità. Dobbiamo mantenere la nostra empatia perché è quello che ci permette di interagire con gli altri a un livello superiore. Quindi da questo punto di vista non bisogna assolutamente cercare di cambiare questo aspetto della nostra personalità. Più che altro bisogna cercare di capire quando e come questa nostra capacità viene usata contro di noi. Viene usata per farci rimanere in una relazione tossica con la speranza che ne vale la pena, con la speranza che sì, bisogna soltanto mettere quel piccolo sforzo in più, con la pazienza necessaria, e prima o poi il narcisista o la narcisista cambieranno, ridiventeranno quella persona che ci ha impressionati, che ci ha scombussolato la vita in positivo, in base a quello che abbiamo pensato durante la fase del love bombing. E allora entriamo in questa dinamica in cui cerchiamo di sistemare i narcisisti, cerchiamo di rimodellarli in base a questa fantomatica immagine che ci è piaciuta così tanto, perché vogliamo ritornare in quella situazione paradisiaca che in realtà è sempre stata, sin dal principio, un'illusione. E quindi tenendo conto che siamo comunque riusciti a sopravvivere a una famiglia disfunzionale che ci ha messo in condizioni di diventare codipendenti, siamo sicuri che riusciremo a sistemare questa situazione che si è creata con i narcisisti, perché diciamo dai, ho sopportato i miei familiari per così tanto tempo, assieme all'insieme di situazioni poco gradevoli, e volete che non sia in condizione di sopportare questa situazione con il mio partner o la mia partner? E siccome non basta, i narcisisti abilmente che cosa fanno? Per poter enfatizzare questa nostra volontà di trattarli quasi come se fossero dei bambini, che hanno bisogno di qualcuno che li aiuta a crescere, si atteggiano come persone che hanno bisogno di aiuto. E come fanno questo? Facendole vittime, facendole persone fragili, incomprese. Si atteggiano con noi come se avessero trovato finalmente quella persona che li capisce, quella persona in grado di sostenerle, e di sopportare assieme a loro tutti questi comploti, tutte queste invidie, tutte queste sfortune che ricapitano. In questa maniera abbiamo l'impressione di fare una cosa nobile, fuori maniera, una cosa che si è portata a buon termine di fronte alla società, di fronte ai nostri familiari che ci hanno sempre detto che non valevamo nulla, che non troveremo mai la persona giusta. Se riusciamo in questa impresa, finalmente vedranno che si stavano sbagliando, vedranno che in realtà valevamo molto più di quello che hanno sempre pensato, e finalmente ci daranno quel riconoscimento che anche noi ci aspettiamo da così tanto tempo, dai nostri familiari, e da tutte quelle persone che hanno sempre dubitato di noi. Vedete? Sembra quasi uno scambio equo. Io aiuto te, narcisista, e tu in cambio aiuti me a farmi finalmente accettare da quelle persone che hanno sempre detto che non valevo nulla, che non avrei mai trovato la persona giusta che avrebbe voluto stare con me. Vedete? Tutto questo ovviamente sta succedendo a livello inconscio, non sto dicendo che sono cose che stanno succedendo in maniera consapevole, per carità. Probabilmente per alcune persone questa cosa viene fatta anche in maniera consapevole, per questo che ci sono anche alcuni professionisti che parlano di una sorta di complicità fra i narcisisti e le loro vittime. Quindi non è da escludere che ci possono essere persone che vanno a mettersi in relazioni complicate per poter appunto cercare di sistemare un trauma, sistemare una voglia di essere accettati da persone che non sono i narcisisti. Però, perché questa impresa è destinata a falire portando soltanto ed esclusivamente in un vicolo cieco? Perché il narcisista non ha bisogno del nostro aiuto, fondamentalmente parlando. Se escludiamo la necessità di avere rifornimento narcisistico, se parliamo solamente del fatto che si possa accettare così com'è, possa finalmente sbocciare in quella persona che è nascosta lì sotto il falso sé, nel vero io. Se vediamo le cose da questo punto di vista, non è da noi che arriverà questa cosa, non arriverà mai da noi per il semplice fatto che tutti i traumi che hanno subiti non sono stati causati da noi. Cioè di cui hanno bisogno per poter eventualmente alleviare un attimo il dolore profondo che sentono dentro di loro, al livello del vero io, non del falso sé. Cioè di cui hanno bisogno da questo punto di vista? Sono le scuse delle persone che le hanno traumatizzate sin da quando erano bambini? Sono le scuse e il riconoscimento di quelle persone che le hanno trattate come oggetti? Di quelle persone che le hanno fatti soffrire al punto di farli diventare narcisisti patologici? E' da queste persone che potrebbe arrivare eventualmente una soluzione che li potrebbe alleviare il dolore, che li potrebbe aiutare un attimo a poter eventualmente, e dico con un grande eventualmente, lasciare sbocciare finalmente quel loro vero io. Ma siccome questa cosa è estremamente difficile che succeda, è praticamente quasi impossibile che i loro genitori possano accettare di avere sbagliato, perché ricordiamo, se i loro genitori li hanno portati fino a questo punto, per così tanti anni, abusando di loro in tutti i modi immaginabili possibili, per poterli poi fare diventare narcisisti, non dico intenzionalmente con l'idea che tratterò mio figlio o mia figlia in questa maniera perché vogliono farne un narcisista, no. Quindi, genitori che hanno contribuito a rendere i loro figli narcisisti patologici, non andranno a chiedere scusa di nulla, non andranno mai a riconoscere di aver avuto torto nell'educazione che hanno dato ai loro figli. Per loro, questo era l'unico modo in cui si potevano atteggiare con i loro figli. Basta! Fine! Non c'è da discutere! Quindi, vedete, è lì che si trova la soluzione, non in voi o qualsiasi altra persona. Eventualmente si potrebbe trovare nei narcisisti se decidessero di lottare contro il loro falso, se di lottare contro questi meccanismi qua. Ma per poter lottare contro questi meccanismi che hanno bisogna innanzitutto riconoscere di avere un problema, cosa che i narcisisti sono lontani anni lucidi a mettere a se stessi. Loro non soffrono di nessun narcisismo patologico, queste robacce qui da strizza cervelli, assolutamente! Ma che? Ma stiamo scherzando? È come dir loro che sono pazzi, che andrebbero richiusi in un qualche manicomio, cose del genere, quindi è una cosa completamente da escludere. Vedete perché ci si trova in un vicolo cieco a voler cercare di aiutarli a cambiare? Perché è una cosa che, fuori dalla nostra portata, noi non c'entriamo assolutamente niente. E poi vi dico una cosa, quando incontrate il narcisista, ricordatevi sempre che prima di voi ci sono state altre persone che hanno provato a cambiare, esattamente come anche voi state cercando di farlo. E non ci sono riusciti. Come dico molto spesso, quando i narcisisti si imbattono in voi, dovete tenere a mente che probabilmente, prima di voi, ce ne sono stati altri 20, altri 30, o eventualmente 50, nei migliori dei casi. Quindi, pensiamoci un attimo, se quelle 20 persone, o quelle che possono essere, non sono riusciti a cambiarli, che cosa è che vi fa credere che ce la farete voi? Perché vi ama di più? Perché vi tratta in modo più speciale rispetto a quegli altri? Perché tutte quelle altre persone in realtà non l'hanno capito o capita come lo capite voi? Se questa è l'idea che vi sta alimentando per poter continuare a cercare di volerli cambiare, vi dico già, state perdendo tempo, vi state buttando in un buco nero, senza nessuna possibilità di uscita. Anzi, quando ne uscirete, se ne uscirete, ne uscirete psicologicamente completamente distrutti. Nel secondo e peggior dei casi, ne uscirete in una barra. Vedete? Queste sono le vie di uscite. Non esiste che ne uscirete come Cenerentola, dopo che ha incontrato il suo principe azzurro. Non esiste che ne uscirete come la bestia, dopo che ha incontrato la bella, la bella la bestia. Non esiste questa storia qui. Ci sono soltanto due modi in cui uscite da questa storia. distrutti o, ripeto, in una barra. Non ce ne sono altre. Se volete persistere in questo tipo di relazione che vi sta distruggendo giorno dopo giorno, dandovi con la speranza che, con un po' di tempo, con un po' di pazienza, riuscirete ad aiutarli a cambiare. Non ce la farete, perché la chiave non l'avete voi. Non ce l'hanno neanche i psicologi. Guardate, ci sono dei psicologi che a volte finiscono vittime dei narcisisti. Nei due casi che ho menzionato. Distrutti psicologicamente o in una barra. Vedete? Per questo che, la miglior cosa da fare, se non volete uscire da questo tipo di relazione, allora vi rimando al video che ho fatto su come sopportare i narcisisti che potete trovare in questo link qua. Lì, spiego alcuni comportamenti che si possono seguire se si vuole continuare ad interagire con i narcisisti, per i vari motivi che ci possono essere. Tra l'altro, qualcuno di voi nei commenti mi ha anche detto che sta un po' implementando questo tipo di approccio e sembra che stia funzionando in base all'obiettivo che state ricercando, in base a quello che vi aspettate da questo tipo di relazione che avete con i narcisisti. Però, per quanto mi riguarda, continuerò sempre a dirvi quello che dicono anche i professionisti. Se potete distaccarvi da questo tipo di relazione, fatelo. Perché rimane sempre la miglior soluzione che ci sia. Guardate, i narcisisti non è che sono fatti per stare da soli. Stanno bene fra di loro, ma devono essere narcisisti di tipologie diverse. Devono essere, per esempio, un narcisista somatico e un narcisista cerebrale. Devono essere narcisisti che non stanno lavorando sullo stesso campo, che stanno lavorando su campi completamente diversi dal punto di vista del loro rifornimento narcisistico. Da questo punto di vista stanno bene fra di loro. Eventualmente, se trovano un narcisista invertito, di cui ho parlato in questo video che potete trovare qui, anche lì possono stare in relazioni che sono funzionali per loro. Perché i narcisisti invertiti sono persone che vanno a cercare proprio narcisisti. Bene, questo è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Fatemi sapere come vi è sembrata questa puntata e ci vediamo alla prossima.